Stiamo pubblicando l'ultimo sondaggio di Euromedia, commissionato dal nostro gruppo, sul referendum costituzionale di ottobre. I no si rafforzano 52 a 48. Questo è ormai un trend stabilizzato che vede crescere i no e diminuire i sì. Se pensiamo che sono due anni che Renzi ha lanciato la sua battaglia. Ricominciamo tutto da capo, sorridiamo.